Giorgia Rio e Gabriele Casula Doppia soddisfazione perché oltre che un allievo del Giorgio Ristanese è anche mia nipote Una ragazza esperta, ha iniziato a montare quando c'era 4 anni Quindi già abbastanza esperta per quello Ha ricoperto il ruolo di secondo due anni fa Quindi si prevede che sia una brava, un po' di oridio insomma Oggi però, e questo resterà almeno io spero per sempre Il 7 di dicembre ci sarà la presentazione davanti a tutto il Consiglio di Amministrazione Riunito appositamente per questa occasione